In 5 in prima fila che sono Corridore Mont, Filippo Esposito, corsa riservata ai Gentleman, la corsa del pomeriggio riservata ai Gentleman, dicevo con l'1 Corridore Mont, col 2 Carbonio, col 3 Cosmos, col 5 Claire De Lune, col 7 Candy Febby, questi i 5 in prima fila. In seconda fila invece col 9 Clary Dei Meg, col 10 Crudelia Col, col 11 Cher Salgette, col 12 Cannibal, col 13 Cool di Girifalco e col 14 Charlie SM, quest'ultimo con un'incertezza, scivola in coda, parte piano, Cool di Girifalco. Allo stacco due cavalli emergono nettamente, sono quelli all'esterno, cioè Claire De Lune e Candy Febby, lungo la corda c'è Corridore Mont con Claire De Lune che respinge Candy Febby che si accoda dopo 200 metri. Il lancio va via in 13,6 per Claire De Lune davanti a Candy Febby, Corridore Mont, poi all'esterno l'avanzata decisa di Carbonio che punta in avanti, ancora all'esterno Cosmos e tutti gli altri tra i quali sbaglia Charlie SM. Carbonio che va all'esterno, poi all'esterno l'avanzata decisa di Carbonio che va all'attacco di Claire De Lune che replica in corda, c'è sempre Candy Febby, Corridore Mont ha preso la scia di Carbonio. Poi terzo in corda, c'è dalla seconda fila Clari De Lune, paletto di metà gara che viene completata in un minuto secco mentre c'è l'errore di Corridore Mont. Un minuto dicevo per Claire De Lune e quindi si viaggia sul piede dell'1,15 e Carbonio perde qualche battuta all'esterno, 1,15 e 3 il primo chilometro con Claire De Lune in vantaggio. Nei confronti di Candy Febby che all'esterno Carbonio scatta in terza ruota Cersal Jet, poi ha spostato la corda anche Clari De Mag che cerca di seguire Cersal Jet e per linea interna va invece Crudelia Coll. Poco prima dell'ingresso in retta arriva è ancora in netta evidenza Claire De Lune nei confronti di Candy Febby e poi ancora Cosmos che sono emersi tutti nella scia della battistrada che però è ancora in chiaro vantaggio su Candy Febby, poi Cosmos sul quale ha spostato ora Crudelia Coll. Nel finale Claire De Lune non sembra avere problemi e va a concludere il suo percorso di testa con chiaro margine su Candy Febby mentre per il terzo probabilmente è il numero 10 di Crudelia Coll che si sottrae alla rincorsa dell'11 di Cersal Jet. Rivediamo il tutto 2-1-8 sul mio cronometro media di 1-16-1 per Claire De Lune. Da un capo all'altro con il numero 5 nei confronti del 7 di Candy Febby che l'aveva impegnata nella fase iniziale mentre vediamo che dal gruppo emerge al terzo posto ancora una femmina e cioè il 10 di Crudelia Coll contenendo Cersal Jet. 5-7-10 l'arrivo ufficioso della settima di Capanelle. 5-7-10 l'arrivo ufficioso della settimana di Cersal Jet.